ciao a tutti oggi prepareremo il freak shakes al tiramisù il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa ingredienti sono cacao zuccherato savo aiardi gelato al cioccolato mascarpone caffè ristretto freddo zuccherato caffè solubile panna per dolci e panna montata per decorare andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i savoiardi e azioniamo il bimbi per 8 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il gelato al cioccolato il mascarpone il caffè la panna per dolci il caffè solubile e il cacao zuccherato azioniamo il bimbi per un minuto da velocità 6 a velocità 8 trasferiamo in dei bicchieri e decoriamo con panna montata cacao amaro savoiardi e se lo gradite gocce di cioccolato o topping al cioccolato o cioccolato uso freak shakes al tiramisù grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!